Un salve a tutti bella gente E oggi siamo su un vecchio gioco ovvero Granny Eccolo qua Mi pare l'hanno aggiornato e quindi non lo so Andiamoci a giocare, mettiamo difficoltà normale Qualità ovviamente altissima E andiamo a giocare Allora ragazzi vedete che siamo in questa bellissima stanza Che dire che è brutta è un complimento Mi è stato detto che la nonna pazza Dovrebbe fare una resa qua Vediamo Allora sento dei passi Oh Porca ma Stavo bevendo la Coca Cola Quando vedo lo Slenderman Sputo la Coca Cola su tutto il monitor Dalla paura Chiave della macchina In teoria questa macchina qui dovrebbe stare giù in cantina Nel garage Oddio Ok Andiamo sotto Via 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 Oh il martello lo do in testa alla nonna Vieni qua che te Come cacchio fai a vedermi senti un po'? Qua? Lo do in testa non c'ho paura eh Allora Oh madonna porco Vai a fare in cu- Ah Porto schifo Lo gioco sta facendo altamente cacà E la madonna però La madonna La madonna La madonna E che cac... Ti denuncio brutta vecchia pazza Allora Dico subito Sto gioco non mi sta piacendo eh Io ci giocavo quando Era un po' più piccolino Però non... Se tu entri qua dentro Vuol dire che sei una tro... Un gula rossa Qua dentro Un ingranaggio Quasi lo stesso di quello Che abbiamo visto sopra Quindi Se noi troviamo la chiave Della playhouse Eh la fangu... Se noi troviamo la chiave Della playhouse In teoria Potremmo Mettere questi ingranaggi qua Cioè quello E anche quello suo Perché li abbiamo trovati tutti ragazzi Credo li abbiamo trovati tutti quanti Allora Salunga Qua non c'è niente Oh però potremmo utilizzare Questa chiave qua Può fare così Vediamo un po' Si è accesa? E vieni Il bagagliaio aperto Entra Forza Entra Vediamo Entra vai 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 Ma va fangu Oh Oh Bruttaveccia pazza Guardala 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 Eccola Io mi vado a fare le mie cose Eh Hai voluto tu Solo un minuto Va bene Tanto Ma fa va Perfetto Dai che ci abbiamo solo un minuto E uno Qua non c'è niente Ma manco Penso No c'è una pezza di quadro Qua Qua No Uno e due Non ci sta Niente Questa però ci serve solamente Questa ci serve solamente per la macchina Credo perché Allora praticamente Praticamente in questo aggiornamento Praticamente ci sono delle nuove stanze Non so dove siano No questa non è una nuova stanza perché già c'era Allora vediamo Non so dove siano le nuove stanze Quindi devo cercarle Qua c'è il Ah Questo lo posso usare Questo posso usarlo subito Che basta che vado qua Tipo Ah qua c'è un uno Questo non c'è stava Cerco di tenermi a mente l'uno Oddio È la terra quella L'ho trovato un easter egg ragazzi Quella è la terra Ah quindi vuol dire Che noi non siamo Sul pianeta terra in questo gioco Siamo su un altro pianeta E boh C'è un uno Che ne so ci Allora vediamo Mmm Ok dobbiamo andare qua Qui sopra E mo Ah fa Un ugole fa Non so perché Sto pavimento è del Del 68 Se mo me te li trovo davanti Mi incavolo Perché io non so dove sei Non so dove Christian sei Ma la fang Ah beh bene Bene perché Bene perché Così almeno possiamo tagliare Quel filo lì Ovvero questo E quello là Così almeno In teoria dovremmo aver sbloccato Un lucchetto della porta Vediamo Così Perfetto Questo non mi ricordo dove ci servono adesso Ehm Ah beh Dentro la cella Però ci serve il martello Il martello l'abbiamo già trovato Adesso dobbiamo ritrovarlo Allora Ah beh dovrebbe stare qua Da queste parti Vediamo Eh però Ah non lo vedo Ah fangue Dai ma ti fai pure il rumore da sola Ma dai ma sei Allora Ah eccolo Perfetto Perfetto Adesso noi torniamo su Tanto lei l'ho sentita È andata in giardino Noi torniamo su E in teoria dovremmo E in teoria dovremmo poter Ah Che cavolo Eccola la Pronta Pronta ad ogni Evenienza proprio Lei in teoria dovrebbe entrare di qua Invece io la frego Vediamo dove entra La frego Posso fregarla Posso fregarla Aha Aha Lo dobbiamo fare super veloce Questa Perfetto Qua R Perfetto Via Va dentro Raga non arriva Guardala Guardala lì Che ho aspettato che uscivo io Che ridere invece A essere sorda Allora Vediamo Una E no No perché io mi metto qua E se io mi metto qua Sono in carcere in teoria Tu non puoi aprirmi Capito Non puoi aprirmi Non puoi aprirmi Punto Non puoi aprire Non puoi aprire Guarda Ho fatto la finta Sì esatto E te ragazzi sono Sono bloccato qua Sono bloccato qua Niente Sono bloccato Ce la faccio più Ok Ok qua c'è la chia Ah la vangu Non buona Eh ma io ho lasciato Le cutting Pargiù Guarda Oh Uno Due E tre Dove stai? Dove stai brutta vecchia Dove stai? Questa che è? Non so se mi serve Dai Vieni Oh E lì ci sono le cutting Piles Quindi devo andare Un'altra volta su Mi hanno fatto il giro Mi hanno fatto il giro Ragazzi Allora Lei in teoria Dovrebbe Entrare Meridino Aspetto che lei Vada giù Quando va giù Con un fuoco di zucchero La pillola Va giù La pillola Va giù Non va giù Qua non ho toccato nulla Allora Non sono vicino a te Brutta figlia di putta Questa è la famiglia di patata Guardala che mette le trappole per orsi Guardala Ma dove se le porta? Ma le caga Oh 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 Io si è aperta un'altra stanza Ma noi proseguiamo per la nostra strada Perché Andiamo Andare qua Perfetto Facciamo così Vai No Ho fatto rumore Eh Guardate ma ha aperto la porta due volte Buongiorno Ho aperto la Ma Ma si è buggata Per caso Ma perché No ragazzi è buggata Dove sta? Ancora in bagno? Allora Credo che sta ancora in bagno Sì Oddio Ma dai Ma stava qua Ma vaffanculo Vuol dire che sono sfigato io Ragazzi sono sfigato io Nel ultimo giorno Sono sfigato io Mi sa se non ho aggiornato anche i finali magari Perché Mi ricordo che quando morivi l'ultimo giorno C'era Un finale Antifinal Tua madre 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 Ma vaffanculo qua Non ho mai visto Non ho mai visto Non ho mai visto Non ho mai Perché si sta muovendo Se non ci sono C'è Oh be- No Beh perché? Dai I- 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 Sti bug Dov'è? Guardala Fatto in tempo Guardala Eh Ma c'avevo ragione che le cagavo le trappole Le trappole le caga Che schifo Cioè ma scusa ma tu apri la porta E poi te ne vai indietro Affan Io spero non senta Anche il rumore delle porte che Ragazzi è un bug Perché io allora sto continuando ad andare Con una mano Sto continuando ad andare con una mano Ma che cacchio dice brutta bugiarda di me Dai non mi vede è impossibile Mi vede Ah c'è pure questo Tiè Tua madre Almeno vediamo il finale Dai Guarda il finale Oddio è nuovo No non è nuovo È solo la musica che è nuova magari Eh sì Mi spingi Ok Brutta figlia di putta Io mi incazzo Infatti ragazzi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Mettate il like Attivate la campanella Io vi saluto Link saluta Ci vediamo nel prossimo video Ascente Grazie a tutti Grazie.